Si continua a indagare sulla morte del bimbo di due anni deceduto a causa di una sepsi meningococcica di ceppo B all'ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno nel Salernitano. I genitori del piccolo Nello hanno sporto denuncia contro ignoti. I carabinieri della stazione di Sarno e la procura di nocera inferiore stanno ricostruendo le ore precedenti alla morte del piccolo sequestrate salme e cartelle sanitarie. Aperta un'inchiesta sul caso mentre si attendono i risultati dell'autopsia. Intanto è partita la profilassi nei confronti delle persone che hanno avuto contatti con il bimbo nei dieci giorni precedenti. Noi siamo stati arrestati subito sia dal pediatra di Libera Scetta che dall'ospedale. È un flusso normale delle segnalazioni di malattie infettive però è importante che la profilassi venga fatta tempestivamente entro le 48 ore. Un bambino che non andava a scuola, non andava all'asilo, era in casa, giocava con i suoi amichetti. Abbiamo reperito quasi sicuramente tutti i contatti perché poi c'è stato il tam tam, abbiamo creato la rete. Poi sono stati profilassati anche gli operatori sanitari perché anche loro sia a Sarno e sia a Nocera in una stretta collaborazione col direttore sanitario dell'ospedale. Oggi chiaramente una maggiore attenzione alla prevenzione, alla vaccinazione. La meningite meningococcica e la sepsi sono dovute a cinque ceppi. Noi abbiamo a disposizione due vaccini. Un vaccino tetravalente che offriamo già dall'anno scorso contro i ceppi ACVY e un vaccino singolo contro questo ceppo di meningococco B che ha causato purtroppo questo triste decesso.